Ha presentato un'interrogazione con la collega Ermellino in Commissione Difesa per avere chiarezza dal Ministro Guerini e il deputato pentastellato grottagliese Giampaolo Cassese e la questione è quella di un eventuale trasferimento del gruppo aerei imbarcati, Gruppo Aere della Marina Militare, dalla base di Grottaglie a quella dell'Aeronautica di Amendola. Una scelta sbagliata che andrebbe a colpire ulteriormente il territorio tarantino, già vessato da una crisi economica gravissima. Una scelta oltretutto che rischierebbe di apparire contraddittoria con le misure annunciate dal governo, anche attraverso un apposito decreto per la rigenerazione di Taranto e per il suo rilancio. Per l'On. Cassese la stazione aeronavale di Grottaglie ha un'importanza strategica in quanto accorpa Taranto, principale base navale italiana e Brindisi, sede della Brigata Marina San Marco, stazione che dispone di due gruppi elicopteri e appunto del Gruppo Aere, un reparto di elite di velevoli. Sarebbe dunque una ferita per l'intera comunità depotenziarla, oltre che una perdita sul piano economico, anche perché se ci fosse davvero il trasferimento nel Fuggiano, ogni emissione di volo che preveda l'imbarco su nave Cavour da Amendola costerebbe circa il 30% in più, come ha segnalato l'ammiraglio Binelli-Mantelli, prosegue Cassese. L'auspicio è che il Governo prosegua nel suo cammino per potenziare e valorizzare le realtà esistenti nel territorio, incrementando gli investimenti, se necessario anche per adeguare la base della Marina Militare ai nuovi mezzi, cosa che avrebbe una ricaduta positiva sull'indotto tarantino, in modo che nessuna risorsa di cui disponiamo venga trasferita altrove. Ci batteremo affinché le potenzialità che abbiamo vengano messe a valore, conclude il deputato.